parliamo del domperidone viene fuori spesso sul gruppo la questione del domperidone che cos'è il domperidone il domperidone è un farmaco nato per trattare il vomito negli esseri umani si è scoperto che il domperidone a determinati dosaggi ha un effetto collaterale qual è la stimolazione al rilascio della prolattina la prolattina è un ormole definito pro infiammatorio cioè induce uno stato di infiammazione questo tipo di infiammazione può risvegliare il sistema immunitario contro l'infezione da lesmania gli studi clinici hanno dimostrato che i soggetti sottoposti all'utilizzo del domperidone in corso di lesmania hanno una percentuale di negativizzazione al titolo anticorpale pari al 40 per cento in effetti se noi prendessimo tutta la popolazione con lesmania e la sottoponessimo a un trattamento ad alto dosaggio di domperidone assisteremmo al 40 per cento di guarigione però c'è sempre un però l'altro 60 per cento cosa farebbe se utilizzassimo il domperidone in modo indiscriminato una parte del 60 per cento che non andrebbe a guarigione avrebbe un'altissima possibilità di sviluppare effetti collaterali perché perché il domperidone è vero che inizialmente è stato pubblicizzato come migliorativo nei soggetti con lesmania ma ci sono dei casi in cui è pericoloso o addirittura controindicato usarlo il domperidone non ha effetti collaterali il più famoso è il vomito molti soggetti non tollerano il domperidone a quei dosaggi per cui riesce a stimolare il sistema immunitario il secondo effetto collaterale non da meno è l'eccitabilità del paziente molti pazienti non riescono a tollerare la forte eccitazione indotta dal domperidone terzo effetto collaterale se sbagliamo il momento e lo stadio potrebbe aumentare i sintomi perché perché abbiamo detto più volte andate a vedere tutti i video in cui ne parliamo la lesmania la sintomatologia da lesmania è indotta dall'azione del sistema immunitario quindi cosa succede se io ho un sistema immunitario molto sveglio che mi sta dando tutti i sintomi della malattia e in quel momento ci metto il domperidone che attiva ancora di più il sistema immunitario mi posso aspettare un aumento dei segni clinici addirittura tali da avere un paziente parecchio abbattuto e vi racconto la storia di questo paziente per privacy non vi dico il nome del paziente non vi dico la famiglia questo paziente aveva iniziato un percorso di cura di per sé non con il nostro centro e aveva deciso il suo centro di riferimento di inserire il domperidone in questo stadio vi faccio vedere questa è la sua elettroforesi come vedete ci sono dei picchi riguardiamo insieme il il picco gamma anzi parliamo dal picco alfa il picco alfa sia alfa 1 che alfa 2 è segno di una grave infiammazione anche il picco beta 2 beta 1 beta 2 beta 3 il picco gamma quindi il paziente in questa fase qui siamo febbraio 2022 aveva già un sistema immunitario troppo attivo andarlo ad attivare ancora di più in maniera indiscriminata avrebbe potuto portare grave sintomatologia e così è stato tanto che all'inizio del domperidone il paziente ha sviluppato zoppia inappetenza malessere generale abbiamo dovuto frenare poi ci ha contattato abbiamo frenato il sistema immunitario tolto il domperidone iniziata una terapia differente per regolare questo sistema immunitario adesso da febbraio siamo a novembre negativo la pcr midollare sta dicono benissimo noi lo rivedremo per qualche mese con le analisi quindi domperidone sì quando quando il sistema immunitario è in quiete infatti l'utilizzo numero uno del domperidone è la prevenzione abbiamo un sistema immunitario che potrebbe cadere sotto l'infezione dalle ismania lo stimoliamo affinché non cada domperidone in prevenzione domperidone in mantenimento della della dello stato di quiete quando l'infezione è già passata è stata trattata non sappiamo se ci sono parassite ancora circolanti domperidone si mantiene il soggetto in equilibrio col sistema immunitario sistema immunitario impazzito come quello di questo paziente domperidone no noi l'abbiamo utilizzato al centro sotto monitoraggio per quei pazienti che non rispondevano a nessuna terapia su qualcuno ha portato la negatività anche in queste condizioni ma dobbiamo sapere di tutti gli effetti collaterali che possono venire e non è diciamo l'utilizzo per cui teoricamente è stato concepito un bacione iscrivetevi al canale youtube così da ricevere tutti gli aggiornamenti un bacione